Nel mondo dei veicoli elettrici tutto si evolve e voi vi ricorderete che qualche anno fa noi abbiamo fatto un servizio con Yulie e questo progetto MIA che ricordo era stato sponsorizzato e seguito da Ségolène Royal in Francia. Adesso come dicevo tutto si evolve, questo progetto è diventato tedesco e siamo con il signor Murat Bunak che è il manager di questa nuova azienda. Buongiorno, mi presento la compagnie e il progetto del vecchio tempo in Francia, ora è diventato germano e vorrei sapere più di questo nuovo sviluppo del progetto. La MIA è un progetto completamente nuovo, è un progetto completamente nuovo compagnie di 100% electrico e l'obiettivo è di entrare nel negozio electrico con un veicoli, non impensivo, di usato di un veicolo. E qui presenta tre differenti tipi di stessi? Sì, noi presentiamo tre differenti tipi di MIA, la short wheelbase qui dietro a noi, la basic car se vuoi, con tre siti, la long wheelbase con 4 siti e un veicolo utilitario. E queste caratteristiche sono ancora omologati per la circolazione di strada o sono anche in completo sviluppo in questo momento? No, le caratteristiche che vedete qui in Genova sono reale produttive caratteristiche, ci sono reale produttive caratteristiche, ci sono reale caratteristiche e questo è un caratteristico che ha passato tutta l'homologazione di strada, tutto è fatto. Qual è il prezzo per il mercato di questo tipo di caratteristiche? Il prezzo per il mercato di MIA per il mercato del mercato è, con la batteria, 19.500 euro, includendo taxe, in Francia il prezzo della stessa caratteristica è 15.600 euro, perché il governo francese ha dato ai clienti. E puoi raccontare con noi le datate tecniche di queste caratteristiche, so che sei che sei più tecniche, quindi siamo curiosi, ovviamente, a sapere di questo. Non c'è molta tecnica in questo tipo di caratteristiche, perché la batteria è molto semplice, non è una tecnica complica, ma è molto importante sapere che abbiamo avuto una grande possibilità di creare questo caratteristiche di zero. Quindi il nostro caratteristiche è stato costruito per essere un caratteristico e, come sai, la cosa più importante è il peso, il peso, il peso e il peso, il peso e il peso, per avere una piccola batteria, per essere affidabile. Questo è stato il primo obiettivo, quindi il peso del caratteristiche è, includendo la batteria, 750 kg, che ci permette di avere solo una batteria 8 kW con un'engino di 18 kW. E questo permette di produrre questo caratteristiche in modo che possiamo dare un bel prezzo per il cliente. E questo è omologato come caratteristiche o come quadricycle? No, non, è un'immagine più vero. Un'immagine più vero. Un'immagine più vero.